Bella tutti misline qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con un nuovo video e come potete leggere al titolo oggi andiamo a parlare di cinque rapper americani morti non in senso figurato bensì musicalmente e commercialmente parlando a così inizio questo nuovo format o meglio vi spiego questa nuova serie di video un po più di curiosità o comunque chill per variare dalle solite reaction comunque dai video sui rapper magari il prossimo può essere cinque rapper sopravvalutati sottovalutati insomma per farvi un'idea roba del genere fatemi sapere subito nei commenti se effettivamente questa cosa vi può incuriosire per cominciare oggi ho fatto questa piccola top 5 o comunque lista perché come potete immaginare non è facile fare una classifica dal primo all'ultimo in base a chi è scaduto di più quindi vedete un po voi come interpretarla io direi di partire subito dal quinto rapper che ho deciso di inserire lil skies sono molto dispiaciuto per averlo messo non andrò a mentire perché skies era uno dei miei rapper preferiti se torniamo indietro di 23 anni ma le cose ad oggi sono drasticamente cambiate scopriamo il perché è il 2017 esce life of a dark rose il suo tape di debutto almeno a livello commerciale con questa la posizione numero 23 all'interno della classifica billboard 200 e all'interno dell'album troviamo canzoni come red roses and nowadays entrambe fit land on cube che vantano ad oggi di più di 300 milioni di streaming per non parlare dei rispettivi video su youtube addirittura nel 2020 il tape è stato certificato disco di platino ma la sua carriera va avanti e vediamo cosa succede arriva il 2018 ed esce shelby l'album studio di debutto del rapper debutta al posto numero 5 all'interno della classifica di billboard vendendo 54 mila copie niente male proprio quest'anno è riuscito a fare disco d'oro e la traccia più streamata è high con 280 milioni di streaming che già se andiamo a confrontare con le canzoni di life of dark rose dove addirittura sono tre quelle che superano il 300 milioni di streaming è già qualche passo indietro nel 2021 droppa il suo secondo album studio ambotere flop vende 15 mila copie alla prima settimana la traccia più streamata è heavy my way featuring lil dark addirittura era uscito come singolo pre album e ha collezionato 80 milioni di streaming la seconda riot con 50 è il problema è proprio tutto quello che c'è dopo perché le altre canzoni hanno da 1 a 8 milioni di riproduzioni oltre ad essere un buco nell'acqua dal punto di vista commerciale lo è anche musicalmente a mio avviso visto che l'evoluzione che c'è stata tra shelby e ambotere secondo me pari a zero è sempre lo stesso lee skies ed è questo è una cosa che da fan mi ha deluso parecchio pensate che è uscita anche proprio in questi giorni forse una settimana due settimane fa la deluxe edition di questo album e io non ho mai sentito parlare questo per farvi capire comunque quanto può essere andata bene arriviamo al rapper numero 4 famous decks si ascoltavate trap già nel 2015 16 17 lui insieme a rich the kid erano la coppia più fresca dei tempi e si pensava che potessero fare cose veramente gigantesche comincia a droppare musica nel 2015 e da qui fino al 2017 escono una serie di mixtape da menzionare sicuramente dexter laboratory heartbreak kid and dexter the robot ciò che subito lo contraddistingue è il suo stile sotto ogni punto di vista flow immaginario e quant'altro molto molto originale nel 2018 arriva dex meets dexter il suo primo album ufficiale che riesce ad entrare in top ten nella classifica billboard posizionandosi proprio al decimo posto vendendo 25.000 copie le canzoni più streamate di questo progetto sono japan e pick it up featuring asap rocky ad oggi entrambe con più di 350 milioni di streaming senza alcuna ombra di dubbio le sue hit più grandi nel 2020 esce diana il suo secondo album ma prima di arrivare a qui in questi due anni diciamo che non passa proprio bellissimi momenti ha numerosi problemi con le droghe che lo condizionano a livello fisico ma anche musicale visto che non si riesce a concentrare su un progetto serio come un album e annuncia un casino di date non un sacco proprio un casino di date senza mai rispettarle tutta questa situazione poi porterà rich the kid ad accompagnarlo in rehab proprio durante il 2020 alla fine esce e vende poco più di 4.000 copie un flop chiaramente assoluto la canzone più streamata è what i like featuring taiga e rich the kid che ha circa 17 milioni di streaming il problema è che su 17 tracce di album 8 10 circa hanno dalle 50.000 alle 100.000 riproduzioni che sono numeri che ormai quasi non fa neanche più un emergente in america insomma anche la sua ad oggi perché chiaramente è ancora vivo può ancora riprendersi però è una carriera non andata proprio alla grande passiamo al rapper numero 3 ybm namir io non ci credo che questo ragazzo è lo stesso che ha fatto bansa with that e rubbing off the paint ma procediamo con calma comincia a rilasciare musica nel 2017 e fino al 2018 non abbiamo un suo progetto i singoli che escono quelli sicuramente da menzionare sono quelli che vi ho detto di prima che ad oggi hanno circa 250 milioni di ascolti nel 2018 esce ybn the mixtape un album che lo vede partecipe insieme agli altri amici e rapper del suo collettivo ybn che ad oggi si è sciolto purtroppo non sono riuscito a trovare i dati delle vendite ma in tutta onestà non credo che sia andato così male visto che ad oggi è anche certificato disco d'oro la traccia più streamata non calcolando i due singoli di prima che fanno parte dell'album è kung fu di corde che ha più di 150 milioni di streaming sinceramente questo album ai tempi mi sorprese pure tanto perché di loro avevo ascoltato poco e niente e tutto sommato non mi sembrava per niente un cattivo progetto ma andiamo avanti arriva il 2021 ed è il turno di visionland il primo album ufficiale di namir come artista singolo flop incredibile perché vende 4000 copie first week le canzoni più streamate sono hop stop featuring 21 savage con circa 50 milioni di ascolti e two seater featuring gizzi e offset con circa 35 il problema è tutto il resto visto che ci sono canzoni con 30 mila ascolti altre con 100 mila altre con 800 mila insomma comunque una merda detto bobo in altre parole non posso esprimere un giudizio su questo album perché non l'ho mai ascoltato e non ne ho mai sentita l'esigenza soprattutto dopo aver sentito 30 secondi di soul train però vi posso dire che nel caso in cui non l'aveste mai ascoltato tranquilli che non vi perdete nulla arriviamo al numero 2 smoke park pain 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 tantissimo dolore per aver messo quello che come il sky's ma lui ancora di più era uno dei miei rapper preferiti è il 2017 anno in cui lui e lil pump sono i next up e qualsiasi cosa droppano è una hit così come lo è tutto dead star il mixtape di debutto dell'artista californiano se non erro scherzavo è nato a chicago ma vissuto nella florida comunque esce e debutta al 42esimo posto nella classifica billboard che comunque per un tape non è niente male la traccia più famosa è senza dubbio audi con circa 170 milioni di ascolti ma in generale tutto l'album è su un ottimo livello e per me ad oggi è il suo miglior progetto nel 2018 esce bless your trap un tape totalmente prodotto da murder le cui hit più famose sono one two three e do not disturb featuring offset lili occhi con circa 70 milioni di ascolti per questo invece quarantesimo posto della classifica piccoli progressi dopo qualche ritardo e un ep esce l'attesissimo dead star 2 primo album ufficiale del rapper anche in questo caso flop totale 137 posto nella classifica billboard con circa 5 mila copie vendute non finisce qui perché per rifarsi il rapper subito annuncia un nuovo tape florida gitti in collaborazione con ronny j definendolo così il suo miglior progetto mai fatto risultato esce nel 2020 e riesce a far peggio di dead star 2 perché vende poco meno di 5 mila copie la traccia più famosa è tide pan con jack carlo con 10 milioni di stream come se non bastasse quest'anno ha droppato un ep psycho ep la cui traccia più streamata è we outside featuring lil moisey con 3,5 milioni dalle stelle letteralmente e arriviamo così al primo posto rich the kid anche lui come vi dicevo prima insieme a famous decks erano considerati ai tempi rapper più freschi della scena e vediamo che fine ha fatto dopo vari tape nel 2018 esce il suo primo album ufficiale the world is yours posizione numero 2 nella classifica billboard con 59 mila copie vendute per niente male all'interno è contenuta quella che sicuramente ad oggi la sua più grande hit plug wall con circa mezzo miliardo di ascolti l'anno successivo arriva il sequer the world is yours 2 che conquista la posizione numero 4 in classifica billboard vendendo 42 mila copie già piano piano cominciamo a perdere colpi 2020 è il turno di boss man terzo album ufficiale del rapper per lui posizione numero 24 con poco meno di 20 mila copie vendute durante la prima settimana ed è qui che la sua discesa diventa inevitabile comunque continuano ad uscire altri progetti come nobody safe joint tape con young boy e lucky seven un ep di appunto sette tracce la traccia più riprodotta ha circa 20 milioni di ascolti letteralmente da mezzo miliardo a 20 milioni insomma my slime questi erano i cinque artisti che ho selezionato per questo video che secondo me durante questi anni hanno perso davvero tanti colpi voi cosa ne pensate vi trovate d'accordo o no avete una vostra lista o comunque top 5 scrivetemela nei commenti così mi dite anche i vostri rapper che più vi hanno deluso durante questi anni vi invito anche a lasciarmi un piccolo feedback su questa serie se vi può interessare se il video vi è piaciuto chiaramente vi invito a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi altri video altre reaction e tutto quello che carico qui sopra condividete questo video con quanta più gente volete e potete noi ci vediamo ad un prossimo slat ciao 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 ciao